benvenuti qua finalmente in questo canale jessica vi aspettano nuove avventure a fortnite e tanti altri giochi che potterò vi presento sono jessica la cugina di max astrale mi raccomando mettete il codice creatore max trattino astrale server privati con cessica iscrivetevi lasciate tanti like attivate sto cazzo di campanella e alla prossima ragazzi